Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi mostrerò i 10 calciatori più adati al mondo. Lasciate like ed iscrivetevi se vi è piaciuto il video. Buona visione. Numero 10. Stefanik Steiner Il pendolino svizzero da Juventus non è visto di buon occhio di avversari e tifosi, questo è certo. Nelle sue scorribande sulla fascia spesso si lascia andare a proteste vehementi e furibonde e gli avversari con cui è uscito a prendere questioni in questi anni sono numerosi. Quando Steph parte con l'occhio spiritato, le braccia larghe e l'espressione di chi si sente in debito con il Signore per protestare su ogni singolo fallo laterale invertito, noi ci esaltiamo. Uno di quei giocatori che quando è dalla tua parte è il Gidolo Supremo, ma che quando è contro ti fa saltare ogni nervo del tuo corpo. Numero 9. Joey Barton Uno dei nostri padri putativi non poteva mancare in questa classifica. Il buon Joey, che per la verità l'incorso degli ultimi anni ha un po' calmato i suoi volenti spiriti, è uno che ha sempre trovato un modo per farci dare i suoi campi della Premier League. E nemmeno i compagni si sono salvati, visto che spesso sono proprio loro i versari dell'ira furosa di Joey. Se, fino a poco tempo fa, che devate ai giocatori della Premier chi fosse l'avversario più odiato, quello che in campo gli faceva perdere la testa avrebbe risposto l'unisono Joey Barton. Noi, in verità, auspichiamo un ritorno ai tempi belli, quelli della scappocciata facile e immediata. Numero 8. John Terry In campo probabilmente John Terry non fa molto per farsi voler bene, ma non combina più nefandezzi di quante non ne facciano i suoi colleghi. Lo scandalo che però vide con volte il capiano del Chelsea e la moglie di Wayne Bridge, ai tempi suo compagno di squadra, ha però contribuito alla cattiva reputazione di Terry, che da quel momento si è trovato apprezzato di critiche feroci e fuori e dentro il campo. Perché rispetto alla famiglia sono i lavori più importanti alla fine. Numero 7. Giorgio Chiellini Il difensore della Juve, tra i calcettori del campionato italiano, è tra i meno amati da avversari ai tifosi. Nel corso degli anni molti hanno fatto conoscenza dei suoi gomiti e molti, in verità, hanno lasciato tracce al loro passaggio su zigomi e su sopracciglia di Giorgio Nostro. Sono infatti sempre più frequenti le partite terminate dal difensore bianconero con Umberto Urbante bianco in testa, ad esempio la semifinale tra Juve e Real nel 2015. Accusato spesso di avversari ai tifosi delle altre squadre di giocare scorretto e poi lamentarsi troppo con gli arbitri. Un comportamento che a parecchi non piace e questo lo pone spesso al centro di molte polemiche. Numero 7. Teofilo Gutierrez Per chi come noi ama il calcio argentino, questo nome non sarà di certo una sorpresa. Non c'è partita in cui un attaccante colombiano in forza a River non rischia di essere gambizzato. Un po' per il carattere, per l'indole strafottente di chi si sente padrone del mondo, un po' perché così va al mondo alla fine. Il buon Teofilo ha certamente i più detrattori che ammiratori. Oltre a ciò, esiste un corollario di episodi di dubbia moralità che lo accompagnano, i quali non fanno che peggiore la sua reputazione. D'altra parte, se te ne vai girando con la pistola nello spogliatoio e fa pugni allenamento con il portiere, nonché compagno di squadra, è il minimo che ti può aspettare di avere sempre l'indice dei tifosi. E quando va male non solo quello. Puntate addosso. Numero 5. Sergio Busquets Le immagini di Busquets a terra, con le mani a coprire il volto, gli occhi ben aperti a vedere cosa stesse facendo l'arbitro, dopo aver simulato di aver ricevuto un colpo in faccia a Thiago Motta durante la semifinale di Champions 2010, sono ben impresse nella mente di tutti i tifosi interisti. Busquets non è ben visto dai tifosi di tutta Europa, e le sue simulazioni e pantomime durante le sfide contro Leal Madrid gli sono valse il dietro giocatore più odiato a Madrid. Prima o poi, durante qualche classico, qualche d'uno lo concia per le feste. Statene pure certi. Numero 4. Zlatan Ibrahimovic Potrà sembrare strano, eppure sua maestà Zlatan Ibrahimovic ha un posto di rilevo in questa classifica. Il suo atteggiamento, spesso sopra le righe, altezzoso ha contribuito negli anni a farlo diventare antipatico e a buona parte dei suoi avversari. Gli accostamenti alla Divinitale, continua autocelebrazione e atteggiamento spesso irriverente nei confronti dei giornalisti hanno contribuito all'allonore di antipatia che circonda Zlatan. Ma noi siamo sicuri che a ragazzone svedese tutto questo non faccia che piacere, visto che quando da tutto il mondo contro sembra giocare ancora meglio. Numero 3. Mario Balotelli Difficile pensare a un calciatore in grado di attirare a se l'antipatia gli insutti del 90% dell'Europa calcistica. E ci stiamo tenendo molto stretti. Probabilmente, ad apprezzalo, sono rimasti familiari in una cerca ristretta di persone che ancora intravedono lui qualche qualità. Sta riuscendo nella difficile impresa di far sudare in tutte le piazze in cui ha messo piede ed anche nella sua avventura inglese, che poteva avere presupposti per un rilancio, sta naufragando. Atteggiamento in campo che si può riassumere con un misto di indolente cronico che è svogliato. La cosa che più manda in base i suoi tifosi sono le qualità mostrate a sprazzi che, supportate da una testa pesante, sarebbero dal primo della classe. Numero 2. Pepe Forse siamo rimasti gli unici ad amare il sacco Pepe e le sue scapocciate. Ad onore del vero, negli ultimi periodi è pari di aver messo un po' la testa a posto con il nostro sommo rispiacere, ma siamo convinti che sia solo la quieta prima della tempesta. È solo questione di partite, ma perdere la testa di nuovo, statene certi. Quello che per noi è un idolo, dalla maggior parte delle persone sazienti visto come uno psicopatico da internare, pronto ad uccidere per uno sguardo sbagliato. Con un allenatore dall'Indele Manzoleta con Mancelotti non è riuscito a trovare le motivazioni adeguate, molto più adatto per uno come lui, uno alla murigna. Numero 1. Luis Suarez Il pistolero è uno di quegli attaccanti che noi, da difensori, non vorremmo mai incontrare. Il pistolero è uno di quelli che si venderebbe madre, moglie e figli in cambio di una vittoria. Prima non esistono palle impossibili da raggiungere o partite in cui non valga la pena lottare. Dotato di qualità e tecniche strabilianti, mal di natura l'ha equipaggiato anche di una discreta testa calda alla fine, che lo ha speso e paralizzato nel corso della carriera. Tramorsi ripetuti, sì, perché ragazzo in tal senso è recidivo al limite della mattia. Epiteti non troppo graziosi, citofonare vrà per delucidazioni. Luis Nostro ha saltato parecchie partite per squalifica tirando a sé l'ire di molti appassionati del pallone. non le nostre, sia chiaro. Grazie per aver visto il video, lasciate un like, iscrivetevi se vi è piaciuto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.